In studio per un breve commento alla partita per risultati, classifiche e pagelle abbiamo Sergio Catalani. Allora Sergio, che cosa è successo a Teramo? L'Alma Juventus Fano 3 su 4 partite sono sconfitte, come mai? Buonasera a te Lino e buonasera a tutti i telespettatori. Una vera debacle, quella che è piombata sull'Alma Juventus Fano. 5-1 per il San Nicolò, una formazione che insieme al Chieti, insieme alla Samba, reciterà sicuramente un ruolo da protagonista, ma davvero troppo. È successo ieri a Piano Daccio, allo stadio Bonolis di Teramo. L'Alma praticamente dopo un quarto d'ora già perdeva per due reti a zero. Praticamente facciamo prima a dire che l'Alma non è scesa in campo o quasi, anche se comunque ci sono delle recriminazioni, come poi vedremo nella Moviola con un paio di episodi dubbi che hanno fatto lamentare il clan Granata. Da notare al rientro da Teramo, come tutti ben sapranno, ieri i Panthers e i tifosi non sono potuti andare a Teramo per divieto e hanno aspettato la squadra per un colloquio, per un dialogo molto civile e molto produttivo. I giocatori naturalmente hanno mantenuto la promessa di impegnarsi ancora più a fondo e in qualche modo, facendo quadrato tra società, tifoseria, squadra e mister, hanno promesso che vengano fuori da questo guazzabuglio. Non sarà sicuramente facile, ma l'Alma, noi lo ripetiamo mai da qualche settimana, ha le carte in regola per disputare un campionato di elite e magari vincere, perché noi reputiamo l'Alma sia la squadra più forte del campionato. E quindi sicuramente già fin da domenica prossima con la fermana, le sorti, almeno questo lo speriamo, cambieranno per la truppa di Alessandrini. Bene, allora classifiche, risultati e poi le pagelle. Risultati della decima giornata di andata del campionato nazionale direttanti Serie D Girone F San Nicolò batte Alma Juventus Fano 5 a 1 Ad Agnone, Amiternina batte Agnonese 2 a 0 Avezzano e Vispesaro 1 a 1 Castelfidardo batte Campobasso 1 a 0 Achieti, Matelica batte Chieti 2 a 0 Fermana batte Monticelli 2 a 1 Iesina batte Isernia 1 a 0 A Porto Recanati Campo Neutro Folgore Veregra batte Recanatese 2 a 0 San Benedettese Giulianova 2 a 0 Per una classifica che vede la Samb dei mister Palladini in testa a 22 punti Lepre Solitaria seguita dal San Nicolò a 21 Il Matelica a 19 L'Alma Juve Fano a 17 Quarta forza Quindi l'Avezzano e la Folgore Veregra a 15 punti Il Chieti, il Monticelli e il Castelfidardo a 14 La Fermana, il Campobasso a 13 L'Aesina e Lisernia a 12 La Recanatese a 11 Amiternina a 10 Vispesaro a 9 Agnonese a 8 Chiude la classifica Il famaglino di coda Giulianova Il prossimo turno, come detto Alma Juventus Fano Attesa dalla difficile partita alla Mancini Contro la Fermana dei tanti ex E del ex indimenticato Osvaldo Iaconi E ora le pagelle di San Nicolò Alma Juventus Fano Le pagelle dell'Alma naturalmente Ginestra 5 Marconi 4 Bartolini 4,5 Lunardini 4 Modari 4 Mei 5 Sivilla 4 Favo 4,5 Gucci 5 Chiacchiarelli 5 Lucciarini 5,5 Sono entrati nel secondo tempo Sassaroli non giudicato Buongiorno 5 E Verruschi 6 Alessandrini allenatore 4 Allora queste erano le pagelle Naturalmente come era immaginabile Voti bassi E allora guardiamo qualche episodio saliente La Moviola di questa partita Sì Rino Ecco diciamo c'è un paio Due o tre episodi Nel primo tempo il cross di Chiacchiarelli Dalla destra Protesta granata per un presunto Mani di Pretara Numero 2 Del San Nicolò Il Sivilla che tenta il colpo di testa Ma c'è evidente il tocco con un braccio Le immagini non sono chiare Ma sembra comunque esserci Il calcio di rigore per il Fano E l'annessa espulsione Perché Sivilla colpisce di testa E qui c'è un movimento piuttosto strano Il pallone resta lì E non subisce la traiettoria Che subirebbe normalmente Se il giocatore biancazzurro Avesse colpito di testa Quindi possiamo dirlo Diciamo a chiare lettere Il rigore per l'Alma ci sta E l'annessa espulsione Per il numero 2 Under classico 96 Pretara Sì era sul 2-0 E l'Alma Poteva sicuramente riaprire La partita Sì era ancora Nel primo tempo Quindi un episodio Che naturalmente Ha un po' fatto arrabbiare Mister Alessandini Anche in serie di intervii Qua c'era il rigore Per la compagine Di Mister Alessandini Andiamo avanti Con le immagini Qui c'è il gol di Gucci Il tocco di Chiacchiarelli Verso Gucci Che è in posizione regolare Il tiro di Gucci Il gol Il settimo gol Granata Del ariete di Bagno A Ripoli In cronaca diretta Avevamo Affermato Che il giocatore Toscano Potesse essere Al di là Dei giocatori biancazzurri In realtà C'è proprio questo Giocatore qua Che è il centrale Difensivo Rapino Che tiene in gioco Gucci Quindi il gol È più che regolare E quindi Ci scusiamo Se in cronaca Avevamo detto Che il gol Potesse essere Nato da posizione Irregolare Il gol è regolarissimo E quindi L'Alma Si porta sul 4-1 Con il settimo gol Vedete il tocco Di Chiacchiarelli Gucci È tenuto in gioco Da Rapino Andiamo avanti Con la topica Di Gualtieri Di Asti Non l'unica Nel finale di gara Chiacchiarelli Punta Mozzoni Dribbling Lo sgambetto Netto È vero che Il fallo Aviene fuori aria Ma il calcio Di posizione Ci sta Il direttore di gara Arriva di gran carriera Da tutta la posizione E va a munire Chiacchiarelli Che naturalmente È incredulo Forse Sustenalazione Della guardaline Con Chiacchiarelli Che come vedete Non se ne è capaci Il direttore di gara Che lo vedete Si trova proprio Dalla parte opposta E quindi Non capiamo Che cosa Avesse potuto Vedere Qua c'è proprio Lo sgambetto Netto Di Mozzoni Tra l'altro Il migliore in campo Su Chiacchiarelli Che va giù Fuori aria Tutta la vita Però Calcio di punizione Altrettanto netto Che cosa si combina Gualtieri di Asti Ammonisce Chiacchiarelli Quindi Un'altra topica Del direttore di gara Magari il Fano Gioca una partita pessima E merita ampiamente Il 5 a 1 Come i voti Ne testimoniano Ma il Fano Ancora una volta Ha ben donde Di reclamare Un atteggiamento A dir poco Strano Nei confronti Del presidente Gabellini Che a questo punto Farebbe bene anche A lamentarsi Nelle serie competenti Perché qui Si sta subendo Un po' troppi torti